Manca poco più di un mese alla conclusione dei lavori di rilevazione del censimento della popolazione. Un'iniziativa di grande importanza che chiama a raccolta tutti noi cittadini per contribuire alla conoscenza e per far sì che poi chi decide abbia gli elementi per farlo nel migliore modo possibile. Quindi l'interesse è di tutti noi, l'interesse è avere i dati per migliorare la qualità della nostra vita. L'invito che rivolgo a tutti è quello di partecipare attivamente alla compilazione del questionario avvalendosi di quelli che sono gli strumenti, i mezzi e i contatti che vengono resi disponibili e naturalmente ringrazio tutti per questa preziosa collaborazione.